L'odontologia forense è l'applicazione dell'odontoiatria alla legge e rientra nel contesto delle scienze forensi. Le scienze forensi consistono nell'applicazione delle scienze alla legge o anche ai contesti legali. Purtroppo spesso c'è l'effetto CSI, dal quale però non ci si deve far prendere molto. Molte fiction televisive ovviamente ce lo fanno vedere. L'odontologia forense ha anch'essa una sua storia. Una testimonianza antica dell'uso dei denti a scopo identificativo risale al I secolo d.C. Agrippina la giovane, quarta moglie dell'imperatore Claudio I, dopo la morte di Paolina, cercò di concludere l'atto facendosi portare la testa di lei e l'identificazione che venne fatta fu proprio un'identificazione dentale. Presto per farvi capire che i denti sin dall'antichità venivano utilizzati come mezzi identificativi. L'uomo nel passato, pur non avendo le conoscenze che oggi, utilizzava gli elementi dentali a scopi identificativi. Un'altra testimonianza dell'utilizzo dei denti a scopi identificativi risale al 1193, quando una grande monarchia indiana venne devastata nel momento in cui Maometto stabilì la sede del suo impero a Nuova Delhi. Jay Chad fu assassinato e fu identificato successivamente grazie ai denti. Anche Carlo il Temerario, duca di Borgogna, morto nel 1477 nella battaglia di Nancy, fu identificato grazie ai denti. Durante la guerra franco-indiana, Peter Halkett fu ucciso nel 1758 e suo figlio lo identificò grazie ad un'analisi sui denti. A Boston, nel 1776, nella battaglia di Bunker Hill, il dottor Joseph Warren fu ucciso. Paul Revere, che era un dentista, riuscì a identificare il cadavere grazie ad una piccola protesi dentale che aveva fabbricato per lui. Nel 1814 si ha la prima testimonianza scritta dell'uso di un dentista come testimone esperto nel tribunale ed era il caso di Janet McAllister in Scozia. La corte condannò un docente di anatomia e due suoi studenti di aver trafugato la tomba della signora McAllister. La signora McAllister era morta a circa 40 anni. La notte dopo la sepoltura, il trio avrebbe trasferito il corpo nella vicina College Street Medical School. Il marito della signora McAllister aveva dato i denti artificiali indossati dalla moglie al dentista Giacomo Alessandro, che fu in grado di mettere la protesi sul cranio della signora identificandola. La difesa però affermò che quella protesi poteva essere adattata a qualunque cranio e tutto ciò scaggionò i colpevoli. Un altro caso interessante dell'utilizzo dei denti e fini identificativi nella storia dell'umanità si ebbe nel 1829 quando scomparve il signor Gehring. Sei anni dopo la sua scomparsa, un nuovo inquilino scoprì uno scheletro umano sepolto dentro un semi interrato. L'identificazione di Gehring si ebbe dalle abrasioni dentali causate dalla pipa che lui fumava. Anche il caso di Adolf Hitler fu risolto grazie all'identificazione dentale. Ovviamente di questo caso di odontologia forense ve ne parlerò in un video a parte. Perciò ti invito a lasciare un mi piace e ad iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video.